Perché c'è Chissimi si sullo schermo? Sta ripassando di nuovo! Partita conclusa e c'è il sangue sullo schermo! Anche io non l'ho capita questa! Aghi... No! Aghi mi corre! Aghi mi corre addosso! Aghi... Se prometti mi piace tra i prossimi 3 secondi Aghiwaghi ti mangerà stanotte! Salve sono Gaintime e oggi siamo tornati qua perché dobbiamo scoprire una cosa molto importante ho scoperto come evocare Aghiwaghi su... su... Brawl Stars Mila mi piaceva un prossimo video fatemi sapere qua sotto i commenti qual è il vostro brawler preferito però ho scoperto una cosa che evocandolo poi non si può più giocare se si perde la sua sfida di nascondino a Brawl Stars per 48 ore cioè io posso perdere le partite ho un massimo di 10 vite ma devo anche scappare da lui perché se è lui ad uccidermi io non posso più entrare in gioco per 48 ore nella migliore delle ipotesi nella peggiore mi mangia il brawler adesso vi faccio vedere subito come evocarlo quello che dovete fare è molto semplice cliccare su... no è club su club cliccare sul fogliettino e scritto tra l'altro sono nel club di Mushits che mi ci ha invitato è grandissimo il... scrivere qua il nome di Aggy Waggy seguito però anche dai numeri che si trovano sopra la linea dove c'è la lettera per esempio e iniziamo con la H che c'è il 6, il 7 la metto 6, 7 poi U7 G6, 5, 6, 5 6 per la Y 2 per la W 7 per la U 2 e 1 per la A e 8 per la I e abbiamo finito abbiamo appena scritto il codice di Aggy Waggy probabilmente mi banneranno perché penseranno che ho lasciato qualche numero qualcosa invece abbiamo scritto il codice di evocazione di Aggy Waggy che infatti sta sorridendo sentite che c'è la risatina malefica dietro allora noi fatto questo per evocarlo del tutto e confermarlo dobbiamo andare nella modalità assedio e giocarla io ho solo un biglietto e vediamo in teoria già con questa boss fight se è la modalità giusta che credo che sia non è la modalità giusta ma non importa con cui da qua in poi ci dovrebbe essere Aggy Waggy infatti vedete tutti i colori blu tutti strani perché c'è Aggy? no c'è anche questo tizio che ah è vero mi sono scordato che ho la tizia che spara fuoco guardate anche il mio fuoco è diventato blu ma qua è tutto blu c'è Kissi Missi che ci fa qua? uh aspetta che c'è un bullone questo serve a noi credo Kissi Missi mi ha scritto uccidili tutti mi è comparso in gioco devo uccidere tutti i nemici perché se non lo faccio la sfida di Kissi Missi l'ho persa e quindi lei potrà mangiarmi ok devo ucciderli almeno una volta tutti eh no sono morto io non è fallita in teoria abbiamo 30 secondi no nuovo robot tra 30 secondi ma allora che devo fare? forse sono i robot nostri loro poi ce li devono uccidere ma devo uccidere tutti i nemici uno l'ho fatto no non è vero l'ho ucciso no internet ma perché? perché internet fa così qua? no raga raga rischio di morire qui eh perché se perdo la sfida poi Kissi Missi può mangiarmi uh l'ho ucciso che fortuna anche lui no non riesco non riesco ma dai ucciso dalla loro robottina guarda che non fa internet devo giocare così perché con Huawei se no internet non funziona ultimo robot tra 30 secondi ci hanno fatto fuori il robot fuori fuori ok l'ho fatto fuori che bello ok manca questo che è lo dog mancano lo dog e l'altro no l'altro come lo so ho perso ma lo dog non me lo perderò lo dog non me lo perderà ho fatto fuori lo dog vai 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 adesso manca solo uno che non so chi si eccolo è venuto lui da noi ah è tipo quello è l'amico di Agiwagi guarda caso però nano no no ci avevano 700 di vita e sono morto che due palle che fanno questi però eh no robot loro no 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 uccidilo 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 no raga uccidetelo per favore raga uccidete il robottino raga uccidete il robottino ok fatto abbiamo ucciso il robottino no però mi manca quello di colore che non ho ucciso quello con i capelli neri cavolo vinci tre battaglie ma sempre che ho perso raga c'è lo schermo che scriscia la faccia di Kissimissi che sta passando come un jumpscare tipo però sta passando ma non fa niente non ha fatto niente non ha fatto niente mi ha spaventato andiamo a fare le sfide speciali che ho due vittorie che mi mancano e le finisco e adesso dovrebbe comparire Agiwagi Kissimissi già ce l'ha con me una volta che io ho Agiwagi contro mi beccherò 10 jumpscare al decimo mi uccide definitivamente guardate avete visto l'influenza di Agiwagi anche lui mi ha detto uccidili tutti vanno carbonizzati tutti e niente sono morto io però avete visto l'influenza di Agiwagi che fa diventare tutto blu sono sicuro che è lui per forza è lui ho preso la gemma ed era diventato tutto blu è l'influenza di Agiwagi sul gioco guardate eh vedi non lo fa più l'ha fatto solo all'inizio uh l'ho quasi carbonizzato uno carbonizzato carbonizza anche questo ma che guarda avete visto avete visto si è sentito un flautino è passato Agiwagi ed è diventato tutto blu no 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 guarda come scara guarda ancora coi flauti vai 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 oh l'ho carbonizzato uno anche no ho perso l'occasione squadra rossa al conto alla rovescia vai 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 ah ma l'hanno già fatti fuori che fortuna ok qua ci dovrebbe essere vai OP a fuoco non l'ho fatto fuori ma guarda come scatta madonna no però è ingestibile così eh vai vai che la carbonizzo bravo bravo credo che conti uguali la kill eh anche se mi aiutano altri e niente però internet fa di me oggi eh vabbè ha vinto grazie ci siamo stavolta Aguiwagui non ha fatto niente io ho perso non ha fatto niente strano secondo me ci aspetta qualcosa qua dentro no mori robottino e niente sono morto no però l'ho bruciato ok forse continua la sfida di prima credo che continui la sfida di prima oh c'è Aguiwagui che mi corre addosso no 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 non mi ha preso non mi ha preso no mi sei saltato mi è saltato addosso ma mi è saltato addosso un tizio fallo fuori dai ma quanto sono insopportabili questi no 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 per favore eh no tutti ce l'hanno con me ma che è ma cosa c'ho c'ho scritto che mi devo tipicchiare siamo tre contro tre tre contro di meglio da solo vai 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 è morto il robottino mi frego tutte le gemme no 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 io non l'ho capita questa Agui no Agui mi corre Agui mi corre addosso Agui mi corre addosso Agui vai via Agui è scomparso è scomparso Agui non mi danno agio di fare niente c'ho Agui che ogni tanto torna e mi insegue un'altra volta ogni venti secondi no no ci pushano ma come avevo gemme io avevo tre miliardi di gemme davvero vai 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 no no fatelo fuori un po' dai che palle sto qui oh abbiamo perso abbiamo perso perché ho la squadra bellissima mi dicono no vabbè andatevene a cagare tutti quanti ma avevo altri due tentativi finora Agui non ci ha fatto spaventare non ci ha fatto niente ci corre addosso e basta ah fatemi sapere qua sotto nei commenti se notate cose strane perché io non le noto tutte perché giustamente sono troppe per esempio se non erro c'è Agui Wagi sulla torre che ci stava guardando e poi è scomparso per esempio e credo che sia perché lui ha legge nel gioco sta aspettando il suo momento mi mancano cinque vite e poi ho finito raga non posso più fare niente sta aspettando il suo momento per farci fuori oh muori muori guarda che sono tutti lì dai 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 non mi lasciano tranquillo un attimo sono tutti addosso a me non è possibile no cosa fa sto stupido mi spara a me sono tuo amico non sono controllato da nessuno muori vai 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 gli ho fatto danni tanti gli ho fatto danni tanti cioè non siete riusciti ad ammazzarla neanche con uno di vita quella rieccola vuole la sua rivincita dai 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 ricarichiamo la vita ricarichiamo la vita mi metto qua ma perché guarda che cattivo bravissimi continuate a fare pasqualini ma guarda come camperano cosa ti campero che ti faccio fuori no 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 andate a morire ammazzati come squadra rossa la rivolta no 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 ma cosa vuole questo è una sega c'è questa che ci ammazza no non ha gemme non ha gemme attacca l'altro poi c'è il mio personaggio che dipende come quando perdo fa tipo diventa shadow la versione cattiva mi rimangono quattro vite se perdo anche questo ho finito eh sì però sì però sto robottino devono sempre provare a farmi fuori a me oh ma siamo in tre siamo pigliatela con qualcun altro ma guarda 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 non avevo neanche una gemma l'ho sputata dal niente lasciatemi in pace ma dai ma guarda cioè un colpo mi hanno tirato sono morto c'è qualcosa che mi devono dire oh è morto me ne vado squadra rossa contro la rovescia no 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 che perdo anche queste dopo di questa partita qua si cambia modalità eh perché non c'ho voglia di morire ancora per una squadra mia partita conclusa e c'è il sangue sullo schermo c'è di nuovo sangue sullo schermo lo sapevo è Aghiwaghi che si arrabbia cambiamo modalità perché sopravvivenza vai singolo me ne rimangono tre stavolta ho tre vite per vincere almeno una partita e vi e vivere se no il mio brawler viene ucciso eh no 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 ma perché subito con questi mi ha messo no vi prego però c'è Aghi c'è Aghi c'è Aghi nascosto dentro un albero vedo gli occhi è uscito mi sta venendo in conto perché se l'ha andato non mi ha visto che fortuna perché c'è l'erba ora mi becco uno nell'erba e mi ammazza no però no però no però dai 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 oh man come mi sono salvato ho paura ma questo ora doveva spuntare Aghiwaghi scontro finale ecco perché è spuntato sa che lo vincerò io lo vincerò Aghi tu lo sai oh questo è scemo questo è scemo non stavo giocando vai 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 ho vinto ho ucciso Aghiwaghi era Aghiwaghi si è visto Aghiwaghi era fine lui era una specie di boss fight quindi ok infatti la mia compagna eh sì la mia compagna la mia brawler è contenta perché c'è Kissimissi sullo schermo sta ripassando di nuovo adesso è il mio turno c'è scritto andiamo giochiamo batteremo anche Kissimissi ma se voi lasciate 10.000 mi piace farò un altro video dove andremo a combattere un altro mostro che voi mi scriverete qua sotto nei commenti guardate i brawler sono messi tutti male però bisogna arrivare alla fine per trovare Kissimissi adesso ho sempre tre vite tre vite eh purtroppo il gioco funziona così raga non ci si può fare niente ok c'è Kissimissi l'ho vista l'ho vista l'ho vista l'ho vista sono sicuro c'è Kissimissi non vedo l'ora di affrontare anche lei la sfida si fa molto 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 interessante prima vagavano e basta adesso c'è qualcosa di più da fare lo sapevo lo sapevo lo sapevo dai te ne devi andare a cagare ma spruzzo proprio mo c'ho due vite dopo questi io sono morto e non posso più giocare a Brawl Stars eh no guarda come viene il robottino subito cosa rompi le palle ma cosa rompi le palle che ti faccio in sala moglie ti faccio vai vai spaccalo di botte bravo io intanto mi levo dalle palle no lei no tutti ma quello no quello con me se la piglia proprio male bravo nascosto c'è Kissimissi di nuovo che mi cerca non mi ha no 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 non ci credo non mi ha visto perché ok non mi ha visto che fortuna ma quello lì è fortissimo quello mi ammazza secondo me cioè sto robottino però mi sa che si rivelerà il nostro nemico peggiore è morto non mi convince del pistolero qua eh se n'è andato ok no non se n'è andato si se n'è andato no si se n'è andato nascondo qua no non c'era non c'era non c'era questo è forte quello è forte quello è forte si ma anche io ho la mila dei cinesi signore signore no lei martella troppo forte il suo martello è troppo potente nooo ero secondo sono morto secondo ma che vuole Kissimissi ora che deve far cacca addosso ho l'ultima vita mi sta eh vabbè vinci tre battaglie dove l'ho vinta ho l'ultima vita per vincere se qua se questa volta perdo ho finito con Brawl Stars chiuso non posso più fare niente io per 48 ore perché la sfida è questa nei casi migliori ovviamente in quelli peggiori invece rischi tanto no la rifaccio eh corta questa arriva mi tira due botte oh la rifaccio non me ne frega niente mi sto rinfocillando di vita no no dimmi che mi ha visto se mi ha visto er primo e la fine perché io divento er l'ultimo no però è morto anche se mi avessi visto è morto ma sono messo bene qui io uuuu robottino che mi salva bravo tu si che sei bravo uuuu come l'ha preso il sederino robottino scontro finale sto nascosto zitti tutti zitti tutti sto nascosto c'ho 6.000 di vita stavolta chissimissino mi ammazza eh anche perché se no non posso più giocare uuuu no 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 per la barriera c'è il counter davanti ho un counter che mi dice che non posso più toccare brawl stars per 48 ore cosa significa penso sia penso sia chiaro a tutti che non posso più giocare adesso quindi se questo video vi è piaciuto lasciate un commento mi piace iscrivetevi al canale la campagna per non perdere di tutti i vostri video da game time purtroppo vai aiutatemi magari a sbloccare questo counter nei prossimi video perché ho bisogno del vostro aiuto a sbloccare il vostro aiuto a sbloccare il vostro aiuto